ragazzi buongiorno buona domenica 29 agosto 21 come potete vedere siamo a Rocca Calascio siamo partiti questa mattina da Montesilvano con 24-25 gradi siamo arrivati sul Campo Imperatore perché già abbiamo fatto una sosta c'erano 7-8 gradi forse 6 abbiamo mangiato una bella merenda come si deve, abbiamo fatto una bella colazione come si deve poi vedrete nel video integrale grezza e feroce e poi dal Campo Imperatore abbiamo fatto il valico di capo servo e siamo arrivati in questo posto fantastico che è Rocca Calascio fantastico poi vi faremo vedere il video come si deve per ora vi lasciamo con questa pillolina e vi auguriamo buona domenica ciao ciao